altro punto di osservazione siamo a circa 10 chilometri linea d'aria con l'etna che da stasera dalle ore 19 circa sono circa le 23 e 30 e in eruzione un'eruzione fantastica velocissima un inferno di fuoco veramente speriamo che domani non arriva mare perché qua c'è un grosso pericolo perché sta procedendo in maniera veramente veloce veloce lo spettacolo è spettacolare terribile lascia bocca bella sull'estrema sinistra proprio il puntino rosso che si vede sull'estrema sinistra e il il cono di lancio sarebbe il cratere di sud est dell'etna che sta lanciando ad altezze che sono vertiginosa paracolabia due trecento metri